La strada di fronte, dove vedete il bus, è Nice Bridge, è quasi di fronte ad Arroge, ha aperto il nuovo locale dei fratelli a Bufala, la pizzeria italiana, che ha filiali già a Londra, in diverse parti di Londra, che si trova in una strada pedonale, il locale è molto carino, è accanto ad un altro locale italiano, oggi c'è stata la Grand Open, e qua c'è pure un vecchio amico, è arrivato, è il presidente dei comuni italiani, ok, buonasera, ciao Carmelo, come stai? Salute, salutiamo, salutiamo sempre la Sicilia! C'è un gran display di camerieri, adesso mi infilo nel locale, scenderò diversi piani, c'è un po' la confusione che mi dovrà usare, vediamo se troviamo il direttore, qua gli americani italiani, eccolo qua, eccolo qua, questo è Enzo, Enzo Liberi, c'è un giorno di celebrazioni questa cosa, è Cecilio Schaeff, lui è il direttore dei fratelli a Bufala oggi, sui giri sta facendo un brindisi, una salute, alla salute vostra, dovete tutti! Poi un'altra volta quando sarà meno impegnato loro incontreremo di nuovo, qua ci sono i barman che fanno della confusione, e anche i pizzaioli emigranti che fanno pizza e gli è stato ordinato di fare pizza come se non ci fosse un domani! Enzo, Franco è il manager, Alessandro, come farei senza riuscire? Buonasera, scendiamo, adesso scendiamo giù perché il locale non è soltanto questa parte, superiore c'è un... le sale con i tavoli sono anche giù dove c'è anche la cucina del ristorante, abbiamo abbondantemente mangiato una scuola di fratezza, su questo paese, su chef, l'altro minor che trovate a Chef's Pure Emenio, sicuramente se siete da Chef's Pure Emenio incontrate noi, poi ci sono alcune delle cose, siamo passati al dolce, quindi non c'è il posto, è rimasto sui tavoli, mi faccio un po' largo per vedere, questi sono i dolmi, poi c'erano dei santi di bufala, poi le sfogliatelle, ecco, 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 ecco! Sì, ecco, ecco, ecco!